buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video parleremo del 168esimo episodio di angry dragon che cosa andremo a fare beh porteremo chissà a quale livello dragonzilla il king of dragons ok vi auguro una buona visione eccoci qui ragazzi nel 168esimo episodio dragonzilla il re dei draghi king of dragons il tempio ancora non è disponibile dopo lega del gigante c'è lega del drago l'ultima lega giochiamo guardate il gigante il re dei draghi gli scrigni dobbiamo cercare beh andiamo da quella parte ora livello 8 stiamo per raggiungere si ci passa ma poi non ci passerà più non ci passerà più andiamo dall'altra parte andiamo dall'altra parte andiamo dall'altra parte perdonatemi ragazzi non stavo registrando comunque vi dico cosa ho fatto ho raccolto gli scrigni giusto dappertutto ho completato le missioni comunque comunque con dragonzilla sto facendo propriamente delle cose molto chic il dragonzilla è affamato e niente posso fermarci qui ma scusate se non ho registrato mi sembrava che stavo registrando infatti no scusatemi un grossissimo errore scusatemi un grossissimo errore scusatemi un grossissimo errore allora livello 10 l'abbiamo portato a dragonzilla da livello 7 a livello 10 nel frattempo vi farò vi farò vedere quello che avevamo sbloccato di recente su dragonzilla tipo dei costumi tipo dei costumi oppure dei potenziamenti andiamoli a vedere quello forse 350 costa vabbè che costa 100 gemme ma non ce l'ho tutte quelle gemme vediamo poi cosa si potrebbe fare non dovevo spenderle anzi non spenderò più gemme perchè servono d'orto strike out kanemashi dragonzilla burning anche pure wow no no questo qua già l'avevo fatto vedere giusto qua vi avevo mostrato cosa gli scrigni li avevo raccolto scusatemi per questo errore poi la lega l'avevo registrata si lega del gigante siamo quasi lega del drago ci stiamo per arrivare prossima volta forse livello 13 potremmo fare che dite scusate se il video si conclude qui così poco a quest'ora l'avremmo già registrato un po' di più ma se si è bloccato che ci posso fare comunque il video come ho già detto si conclude qui ok beh ragazzi purtroppo mi dispiace su questo che non ho registrato il video tanto bene perchè era in pausa forse forse e ho dimenticato di rimetterlo di noi in accensione e quindi il video darà la durata 10 minuti circa questo video purtroppo il 168esimo episodio però come soddisfazione portiamo Dragonzilla a livello a livello ok comunque spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mi ha accolato mettete un bel like e noi ci vedremo al prossimo video si si con Clash Royale 2 ok il 28esimo episodio ok alla prossima ciao ciao